Bene arrivati con noi, siamo in diretta, quindi potete partecipare pure alle vostre domande ai nostri ospiti oppure mandare i vostri messaggi. In un momento particolare come questo più che mai diventa importante cercare di risparmiare nei limiti del possibile. Quindi una fonte di dispendio purtroppo economica importante non è tanto l'autovettura, so che viene spontaneo, lo è, ma è anche e soprattutto la casa. La casa ci costa, adesso per le tasse lo vedremo chiaramente con l'Imu, ma ci costa perché ovviamente molte volte si tratta di abitazioni, nella stragrande maggioranza dei casi che hanno una certa età o anche se nuove non hanno delle tecniche costruttive idonee che hanno consentito che consentano un risparmio energetico, una sufficiente coibentazione, non c'è un riscaldamento che consente anche di risparmiare nel gas stesso, i prezzi aumentano e allora cosa fare? Soprattutto cosa fare per portare a una trasformazione di classe energetica della propria abitazione, tale per cui questo possa essere un valore, possa costituire effettivamente un investimento importante, non solo per chi ci vive, quindi può stare meglio, ma anche per chi magari desidera avere un bene durevole nel senso tecnico della parola. Quindi certo al fotovoltaico, perché no anche al geotermico o al sistema integrato, perché no al cappotto termico, alla coibentazione, a tanti sistemi e stratagemi come anche il riutilizzo delle acque reflue e insomma tutto quello che ne può addivenire se utilizzate con una certa logica e competenza e come voi chiedete più volte da personale qualificato, questo è il punto di partenza su cui sempre noi puntiamo. Allora, consulto che cerchiamo di darvi nel modo più chiaro possibile oggi in studio, grazie all'apporto di Sergio Benetello, che è presidente dell'Italian Solar Info Center e che si occupa del progetto Casa Easy Più, di cui ci racconterà adesso, e ben arrivato anche all'ingegnere Matteo Stornanti, esperto in fotovoltaico. Grazie anche a lei, ingegnere, di essere qui con noi. Allora, prima io vorrei un attimo capire questo progetto Casa Easy Più. Lei da tantissimi anni che se ne occupa, era all'interno anche della situazione Confartigianato e assieme alla Confartigianato avevate avviato questa sperimentazione che al tempo era, non dico anomala, comunque sembrava fuori tempo, anni addietro, no? Adesso invece all'avanguardia, anzi. Diciamo che abbiamo avuto delle problematiche per essere seguiti nel progetto in quanto era troppo futuribile, cioè anticipava troppi tempi. Anticipava attraverso. Questo è il nostro mondo, no? Allora, detto questo, oggi invece siamo in un tema più che mai attuale in quanto i costi energetici e la possibilità di risparmio sono talmente elevati da avere la necessità di fare uno studio per ogni singolo soggetto, per ogni singolo fabbricato, per verificare l'opportunità di ridurre e di risparmiare. Allora, ridurre il consumo vuol dire risparmiare, se no addirittura produrre. E produrre vuol dire portare a casa un po' di quattrini. Cioè il tema si è rovesciato oggi con i costi energetici che sono ovviamente importanti, diventa ancora più importante la riduzione del consumo, ma addirittura se io produco più di quanto consumo ho anche un'entrata consolidata che nel caso del fotovoltaico, ma adesso anche arriverà per la geotermia perché c'è una valutazione di legge che permetterà di avere 25 anni di incentivazione, addirittura 25 non più 20, anche sulla geotermia. Presidente, lo interrompo un attimo, proprio alla luce delle perplessità che ci sono tra chi ci ascolta. Perché? Perché si è generata veramente un po' di confusione per tutto quello che riguardava, lo so, il decreto salvitaglia, i vari successivi modifiche legislative, allora c'è un supporto in questo senso, ci sono degli incentivi. Ci faccia un po' di chiarezza a lei perché non riusciamo più a raccapacitarci a riguardo. Allora, noi stiamo attualmente lavorando ancora con il quarto conto energia che ci dà la certezza di portare a casa un risultato concreto e formalmente importante. Mediamente si va a ammortizzare il costo in 7-8 anni con l'incentivo attuale perché c'è stato un abbassamento dei costi di produzione delle materie prime e di conseguenza questo permette di supplire la riduzione del conto energia. Ovviamente siamo un po' in attesa e in apprensione per il quinto conto energia che dovrebbe uscire a giorni, ci dicono sempre a giorni, però è già due settimane che stiamo tintenando su questa... Chi rientra nel quarto conto energia? Allora, nel quarto conto energia entrano tutti i soggetti che vanno in rete entro giugno. Entro giugno, che vuol dire avvio già dei lavori adesso? Sì, devono essere in corso o quantomeno con una certa celerità perché abbiamo i tempi poi dell'allacciamento N perché devono essere allacciati non solo terminati esecutivamente collaudati ma anche in rete. Allora, fino a qua ci siamo, cioè fino al 30 giugno tutto quello che va in rete, che riusciamo tramite l'Enel a mettere in rete, partecipa e riceve il quarto conto energia. Il quinto conto energia è stato... ci sono più bozze che hanno messo in evidenza discordanze impressionanti anche a livello interno del governo, i stessi ministri che vanno in contraposizione, che dovrebbe, ma senz'altro purtroppo sarà così, ridurre in maniera sostanziale il quinto conto energia nei confronti dell'incentivo, lo pagheranno probabilmente meno della metà se le bozze, ma più che altro ci sono anche delle tematiche di prenotazione perché io devo prenotare il mio fotovoltaico. Oggi è previsto da sopra i 3 kilowatt, il che è un assurdo, minimo bisognerebbe andare da sopra i 20 kilowatt, perché l'elettronotazione per un impianto da 3 kilowatt vuol dire intasare tutti i ministeri di carte inutili. Il privato come fa? Il privato si deve soltanto affidare a aziende capaci di poter fare tutto questo, perché il privato non potrebbe mai andare in rete da solo se non ha un supporto di uno studio tecnico minimo. Di un'azienda seria insomma che possa dare questo tipo di... Noi facciamo tutto, ma anche altre aziende fanno tutto, oppure dei studi specialistici che non fanno impianti, ma fanno solo le pratiche, ovviamente è una valutazione di costi poi. Il problema appunto è quello di stare navigando in un momento di nebulosa su cui non sappiamo dove andare a parare, perché ci sono 7, 8, 10 bozze in giro del ministero che danno... Non danno chiarezza sull'anno. Hanno delle differenziazioni importanti, l'ultima è quella di dire va bene spostiamo a ottobre l'entrata in migore del quinto conto energia che permetterebbe l'installazione di altri impianti che sono già in essere o in essere di corsa diciamo così, hanno iniziato le pratiche, perché abbiamo i 30 giorni quando sono semplici di domanda a Enel, quando non diventano 60 o 90 se sono complicati, cioè se è un'azienda che ha un certo quantitativo di energia sopra i 100 KV, a volte mi ci chiedono 90 giorni per potermi dare una risposta, allora lei capisce bene che andiamo fuori ogni... Comunque se portassero anche a ottobre diciamo che si potrebbe valutare ancora un inserimento di impianti abbastanza importanti. hanno tolto completamente l'incentivo sull'impianti a terra, ma questo non è un danno, anzi vorrei dire che è un vantaggio per il nostro... Quindi si cerca di spingere più sui tetti, dei capannoni, degli edifici o quant'altro. Esatto, per l'ambiente noi abbiamo sempre come azienda mai sostenuto gli impianti a terra, perché gli impianti a terra sono l'impatto ambientale notevole, poi vanno a distruggere territorio destinato a altre tipologie. Certo, perfetto. Alla luce di questo però voi non puntate soltanto sull'aspetto del fotovoltaico, voi aprite una settimana, questo è anche importante, di sensibilizzazione, informazione e consulenza per tutti coloro che vogliono fare qualcosa ma non sanno da che parte girarsi. Una settimana presso la sede a Padova. Difatti l'abbiamo denominata settimana porte aperte in modo tale che l'utente che vuole qualsiasi tipo di informazione non ha nessun impegno, non ha nessuna dinamica di nessun tipo, ne si dà la possibilità di avere tecnici specialisti a ogni tipologia. Le tipologie quale sono? Sono la riduzione di consumo, noi parliamo in questo caso di riduzione di consumo energetico, che vanno dalla coibentazione degli cosiddetti, l'involucro dell'edificio ai tetti, alla geotermia, ovviamente anche il fotovoltaico abbinato alla geotermia perché è una simbiosi molto importante, abbiamo inoltre il solare termico, abbiamo i seramenti a tenuta termica a basso impatto emissivo, cioè abbiamo delle soluzioni che permettono e noi nel nostro marchio Casa Easy+, abbiamo 5 punti di riferimento come aveva detto lei prima, c'è anche il risparmio delle acque, cioè il recupero delle acque meteoriche o di altre tipologie con un minimo di depurazione, cioè è assurdo che noi immettiamo nei nostri bagni, nei vici, acqua potabile, che fra 5-10 anni avremo la crisi dell'acqua che sarà molto importante, pertanto per i costi ma anche per la quantità stessa e per gli inquinamenti che abbiamo provocato. Ci sono tanti piccoli stratagemmi che possono essere adottati non solo per rendere la casa più appetibile qualora qualcuno volesse renderla un vero e proprio investimento, ma anche per renderla meno dispendiosa, già ci costa di per sé di tasse. Ma certamente, ma diventano le case passive, il termine che è contro tendenza, diventano case attive, perché appunto hanno questa capacità, questa produttività che mi permette di avere anche un'entrata, cioè è un fabbricato che non ha più solo un costo di manutenzione, ma anche un'entrata che non è simbolica ma è importante, se io faccio una ristrutturazione importante, che mi permette di ammortizzare il mio costo e poi avere una rendita dal fabbricato stesso. Andiamo a capovolgere l'attuale sistema di manutenzione dei fabbricati. Esatto, questo è molto importante. Ingegnere, che tipo di consulenza a questo punto è importante avere? Su che cosa si struttura? La consulenza è fondamentale, perché noi ci rendiamo conto che un impianto fatto bene, quindi progettato bene, installato bene, dura nel tempo almeno quegli anni che è garantito. Che sarebbero quanti circa? Intorno ai 20. Quindi 20 anni, questo dovrebbe essere sicuro. Sicuro. Però deve essere un certo tipo. Quindi bisogna valersi di personale specializzato che sappia far bene il loro lavoro, che personale tecnico di una certa entità, entità sia dal punto di vista normativo, perché le normative ci sono, devono soltanto essere rispettate. e in Italia abbiamo un comitato tecnico italiano, il CEI, che solo per il fotovoltaico ha emanato la bellezza di 32 norme, dalla norma di prodotto alla norma di installazione. Quindi, se un installatore è un installatore serio, per carità, si sono anche inventati ad essere installatori, però una ditta che è all'avanguardia, una famiglia che vuole installare il proprio impianto fotovoltaico sul tetto, deve avvalersi, solo ed esclusivamente di personale qualificato. Ecco, questo è un aspetto fondamentale. Con questo, lo interrompo un attimo, andiamo in pubblicità, però è un aspetto, diciamo, nodale, risolverebbe molti problemi e eviterebbe tanti inconvenienti che purtroppo si sono verificati, perché poi andare a riparare dove c'è un inconveniente oppure aver fatto un falso investimento risulta molto pesante. Pubblicità poi torniamo insieme. Pronto? Pronto? Sentiamo dalla regia, appena la regia mi comunica che c'è la telefona. Pronto? Non è ancora pronta, allora aspettiamo un attimo. Ingegnere, chiedevo a lei, competenza quindi a questo punto affidarsi, il problema dei cittadini è sempre quello, ma come fare a saperlo? Perché tante persone, magari telefonano, si lamentano giustamente, hanno preso il cosiddetto bidone, ma con tutta la più buona volontà di non prenderlo. E questo discorso non... Capisco. Il problema è di fatto, si vorrà chiudere su due punti di vista. Il primo, a chi mi affido? Il secondo, cosa do alla persona che io mi affido? Cioè, do, predendo dalla persona, diciamo persona giuridica, il chiave mano oppure la professionalità? È chiaro che una ditta che non è presente... Tutte e due le cose, non c'è due le cose, pretendo, perché se uno paga pretende anche. perché una ditta che non era presente prima nell'ambito, non fotovoltaico, ma come impiantista, non può inventarsi di fare il tutto il prezzo. E quindi vedere la storia dell'azienda, questo mi ha dato un aspetto Anche vedere la storia dell'azienda. Un attimo, solo in genere, interrompo. Quindi fate attenzione anche appunto all'escursus che ha questo... il percorso storico dell'azienda che non compaia dal nulla improvvisandosi nel settore. C'è la telefonata? Pronto? Pronto? Buongiorno, sono Roberto di Padova. Buongiorno, dica tutto. Salve, interessantissimi i racconti dell'ingegnere dell'altro signore. Ma queste cose, già 5 anni fa sono andato a un convegno su casa, sulla coibentazione in Austria e da 5 anni fa le avevo sentite in modo esaustivo e anche abbastanza completo. So che in Austria il progetto che per il 2016 le bollette della casa domestica devono essere praticamente il tradare e avere zero. Cioè nel riversare in rete dagli enti fornitori e ricevere lì è simultanea, non è come in Italia che a fine anno si farà un conteggio. Cioè tutte le cose sane il futuro in Italia viene applicato non come in Austria come in Germania viene applicato tutto all'italiana ma anche i più sani intenti anche le cose più belle diventano prese delle furbate. Vi porto un esempio a Milano hanno inventato delle batterie tramite le quali in un programma di 3 anni potremmo avere i centri storici con macchine elettriche non se ne parla si parla di altre si parla del trota le porto un esempio in Austria le vasche di compensazione in Austria nessuno si potrebbe innaffiare le piante o lavare l'automobile con l'acqua idrica lo arrestano qui stiamo ancora parlando dei 7 litri della vaschetta risparmio dello sciacquone ma questo non perché io ho sentito l'ingegnere noi abbiamo delle persone capaci non penso che dobbiamo andare a mandare gli ingegneri a laurearti ad Hamburgo il problema è un problema etico un problema di coscienza le porto un esempio l'altro giorno scusate se faccio fuori terra ho visto la Camuso scendere dalla macchina parcheggiata sotto marciapiede e buttare la sigaretta a bocca per terra è una percezione del senso civico in Italia che manca non è che uno deve risparmiare per la bolletta deve risparmiare per rispettare il prossimo per rispettare l'ambiente di una forma mentale culturale qui in Italia voi la burocrazia per fare i pannelli solari uno deve andare dal commercialista e c'è un giro di carteggio c'è una burocrazia e poi in corso d'opera ti cambiano le leggi le agevolazioni i contributi io penso che un 50% uno deve parlare in Italia di progettazione che poi basterebbe pari pari arrendiamoci basta copiare basta copiare non occorre inventarsi niente basta copiare da Svizzera a Austria a Germania e poi il 50% cominciare l'ingegnere deve fare anche politica perché Grillo voglio dire è l'unico che in un paese del Trevisano ha fatto la filiera corta poi io contesto Grillo se fa il capo abbiamo capito il suo messaggio grazie molte grazie del suo intervento Benetello io direi che appunto camminiamo sull'onda di quanto ha detto il Signore sul fatto che noi facciamo la settimana porte aperte proprio per fare informazioni e cultura di questa tipologia sappiamo bene sarà comunque a Padova in Vierienza presso la sede Don Antichiero presso la nostra sede sappiamo bene che l'Austria e la Germania sono avanti decine e decine di anni rispetto a noi beh voi eravate con Friburgo sì noi lavoriamo collaboriamo con Friburgo pertanto non è una novità questo è evidente che l'Austria e la Germania hanno questo know-how in più rispetto a noi ma se noi non pensiamo mai di entrare di fare entrare la gente a toccare con mano queste tipologie saremo sempre la cenerentola di turno pertanto ecco lo scopo va esclusivamente per fare informazione e fare cultura di queste tipologie che esistono ma che la gente non sa ecco una cultura un fattore culturale diceva anche il nostro telespettatore ma è possibile che tra paesi siamo in Europa siamo in Europa però non dimentichiamoci che siamo in Italia abbiamo una realtà italiana e valorizziamola non facciamo non facciamo per carità io non faccio non voglio fare politica nemmeno assolutamente no noi come paese membro della comunità europea abbiamo il maggior numero di norme sulla parte elettrica che fa addirittura spavento siamo i più restrittivi perché perché facciamo le cose dal punto di vista della sicurezza fatte bene noi ci teniamo noi progettisti noi installatori dico noi perché mi ci metto anch'io ci teniamo a far anche bella figura a vedere il problema ma a sviscerare le problematiche prima della realizzazione questo non era un fare non è un fare politica è un fare realtà noi altri siamo i fautori degli impianti fotovoltaici funzionanti non ci scordiamo che gli impianti fotovoltaici sono sicuri se e solo se non installati non progettati non realizzati in maniera usiamo la parola conforme diventano pericolosi ma diventano non sono diventano esatto allora a questo proposito visto che siamo sul discorso del fotovoltaico voi avete una storia sul fotovoltaico si è parlato di varie tipologie di pannelli e quant'altro anche che provenienza da altri paesi c'è una differenza nell'impiego nell'assemblea ecco anche su questo bisogna scegliere appunto aziende che hanno uno storico che hanno una produttività che permette di poter dare le garanzie perché non è solo i 20 anni che un impianto fotovoltaico dura ma dura 30 cioè la mia produzione avrà altri 10 anni di attività che non è banale perché produrrà dall'80 al 50% dopo essersi ammortizzato dopo aver recuperato tutto quello che doveva recuperare col conto energia col GSE ha ancora 10 anni di produttività che io uso e vendo a lei nell'energia o al distributore di rete pertanto ecco il motivo per cui un impianto deve essere fatto con tutti i carismi con le tipologie ma anche con i materiali di lunga durata noi si va a usare solo acciaio inos per le strutture portanti o l'alluminio anodizzato le viti sempre in acciaio inos cioè ci sono tutte queste tematiche che vanno a confronto perché se io uso materiali che non possono durare tecnicamente 30 anni è evidente che l'impianto avrà una defiance molto prima assolutamente ci sono delle possibilità anche di valutare se il proprio edificio ha necessità di un certo tipo di interventi beh sì difatti noi in azienda usiamo le termocamere per esempio per andare il cliente ci chiama andiamo a fare un check up del fabbricato in modo tale da scoprire dove sono le maggiori uscite di calore o entrate perché dove esce il caldo mi entra il freddo e viceversa pertanto questa è una delle tipologie che oggi bisogna affrontare in maniera corretta e scientifica allora facendo il check up del fabbricato abbiamo l'opportunità di creare una scheda fotografica di tutto il fabbricato e vedere tecnicamente anche a colori con i gradi riportati dove abbiamo la maggior perdita per poter intervenire localizzati senza farne di un erba un fascio perché in molti casi o sono le finestre o ci sono delle parete in calcestruzzo che non sono state minimamente coibentate e diventano un termometro di come dire di come posso dire di interferenza tra interno ed esterno perché è un ponte termico e di conseguenza ecco tutte queste cose vanno valutate e facendo un check up con queste termocamere che sono innovazioni di ultimi periodi molto agverite che mi danno oltre alla fotografia schematica del rosso del giallo del verde o del blu a seconda delle temperature mi danno anche la specifica temperatura che io vado a monitorare pertanto è molto importante perché non si può più andare così a vista a dire ma io penso che entri di qua o penso che entri di là lo dobbiamo classificare secondo la sua esperienza sono tante le abitazioni diciamo che purtroppo fino all'altro ieri noi abbiamo costruito in maniera del tutto che non merita neanche commenti perché addirittura vediamo con la termocamera che abbiamo i passaggi da esterno interno con le stesse temperature in molti casi c'è un ponte termico che mi congiunge interno esterno questo vuol dire estremamente aver lavorato in maniera oggi per fortuna ci sono molte aziende che stanno producendo e costruendo case in classe A e questo va a merito appunto ma più che altro è il mercato che ha richiesto questo perché la cittadinanza i cittadini hanno incominciato a recepire questi messaggi il costo energetico uno dei primi che ha motivato la ricerca e secondariamente appunto il benessere di essere in un fabbricato che mantiene sempre le stesse temperature estate inverno perché se io faccio un fabbricato con la tipologia tipo casa easy più come noi proponiamo avremo riscaldamento e raffrescamento che mi permette di avere una costante temperatura sono 21 22 23 quello che voglio questi sono i gradi che si mantengono in maniera corretta e pertanto voglio dire questo è un saper vivere anche è un vivere sano ecco ingegnere applicare per esempio qualche cosa e lasciare il lavoro incompiuto cioè mettere per esempio il fotovoltaico però nel contempo non intervenire nella struttura di un edificio che magari ha una certa età e quindi ha delle perdite energetiche non è un controsenso no non è un controsenso diciamo che allora se andiamo al risparmio energetico è un controsenso nella maniera più assoluta nella maniera più assurda se noi invece andiamo al risparmio energetico per quanto che riguarda l'energia elettrica il pannello fotovoltaico produce energia elettrica è un generatore di corrente corrente che dall'illuminamento del sole la trasforma in energia elettrica e allora se noi andiamo a voler levare tutto quello che è facciamo un esempio io sono in cucina la mia cucina è a gas allora io trasformo i miei fornelli a gas in fornelli elettrici è chiaro che se ho un impianto fotovoltaico quel fornello elettrico mi rende di più perché con lo scambio di energia io consumo più del mio e allora posso aumentare la potenza installata dell'impianto e ho risparmiato il gas ma non è che l'ho risparmiato non l'ho consumato sono tutte strategemiche ecco questa è una strategia come ad esempio utilizzare magari gli impianti che utilizzano l'energia elettrica di giorno quando il fotovoltaico è pieno regime rispetto magari al momento di accumulo di notte quindi si stravolgono poi i principi esatto si stravolgono i principi e stiamo andando su questo allo stravolgimento dei principi perché se io ho più produzione di energia elettrica in quanto il sole me ne genera tanta durante il giorno io ho tutto l'interesse a consumarla di giorno certo quindi è una questione diversa gli investimenti proprio una domanda velocissima perché siamo già in pubblicità sono importanti in questo senso sono consistenti certo che sono importanti sono importanti sia gli investimenti sia il criterio di investire io investo in impiantistica io investo in riduzione delle spese energetiche ecco è l'obiettivo c'è una data importante 2020 tra l'altro che ci porterà certo dovremmo portare quel famoso 2020 ma noi siamo molto in ritardo nel risparmio nella produzione addirittura abbiamo aumentato l'endicap che avevamo in questi ultimi periodi in questi ultimi anni dopo la firma del trattato di Chioto però il problema è un altro oggi per i motivi di costo eccetera si sta valutando questa opportunità il nostro intento è quello di dare tutte le informazioni poi le aziende specializzate penseranno non solo la nostra penseranno a proporre le migliori soluzioni per cui c'è un'equip in questa occasione in questa settimana che sarà presente da noi c'è un'equip di specialisti per ogni singolo settore dalla geotermia fotovoltaica quindi avere informazioni fare proprio quello che dicevano i nostri spettatori informarsi per poi avere una cultura che ognuno può andare a chiedere la specifica informazione che lui chiede o generale o parziale per il tetto per il recupero delle acque meteoriche qualsiasi tipo di informazioni inerenti alla casa per i contributi non dimentichiamo che abbiamo anche il vantaggio ancora nonostante il periodo di crisi che è del tutto particolare che mi auguro che riusciamo a superare perché è una crisi generalizzata ma abbiamo ancora la possibilità di portare a casa quel benedetto il 55% in detrazione fiscale dall'Irpe questo è importante poi vediamo in che termini cambierà la proporzione ovviamente intanto pubblicità poi torniamo insieme allora eccoci qua alcuni hanno chiesto il numero verde lo cerchiamo anche di rimettere vogliamo di ripetere il numero verde? va bene lo mettiamo in se lo mettiamo benissimo è 800 adesso non me lo ricordo più comunque adesso magari lo mettiamo in onda lo facciamo vedere invece per quanto riguarda eccolo qui adesso vediamo lo spot quindi c'è anche il numero verde 8897 386 85 un'altra cosa sono diversi messaggi che stanno arrivando e stanno scorrendo in sovrimpressione e sostanzialmente puntano sul fatto che vista la crisi attuale fare degli interventi come sarebbe giusto fare all'interno dell'abitazione comunque ha dei costi ingegnere questo aspetto qui è rilevante indubbiamente ha dei costi ed elevati sono elevati i costi perché? perché fino agli anni 70-80 si costruiva non pensando al discorso del risparmio energetico si costruiva si costruiva si costruiva adesso abbiamo noi delle case degli edifici che sono delle stufe a cielo aperto voler voler intrappolare il calore solo ed esclusivamente perché serve all'interno significa fare usiamo una parola che tutti conoscono un cappotto all'edificio ecco questo però non va ad alterare l'equilibrio dell'edificio perché poi alcuni hanno fatto degli interventi e sono trovati la casa con la muffa un'umidità eccessiva e siamo sempre al solido discorso e il discorso è io mi devo rivolgere a ditte qualificate quindi magari purtroppo spendere di più questo è un dato di fatto però almeno avere una certezza presidente certo perché perché va monitorato in rapporto al tipo di intervento io devo fare un ricambio d'aria nella stessa tipologia di quanto sono intervenuto cioè non posso ricreare l'equilibrio quindi non posso chiudermi in una cella di vetro e poi pensare che non ho condense non ho devo avere una compensazione di riciclo d'aria ci sono degli strumenti oggi che mi permettono di espellere l'aria calda o fredda a seconda della tipologia della mia necessità e mantenere l'equilibrio per il grado di umidità per il grado di salubrità dell'aria stessa o addirittura dei sistemi di filtraggio che se io avessi anche delle ho dei problemi col polline riesco a tenerli fuori dal mio fabbricato pur con un ricambio d'aria continuo quindi per tutto quel discorso anche di allergie esatto esatto cioè andiamo anche a compensare parte della salute con un fabbricato fatto bene ma deve essere completo nella sua totalità di sistemi che sarebbe troppo lungo esporre oggi assolutamente ma non è proprio dare informazioni generali diciamo che si deve optare soprattutto per quei materiali che riescono a far traspirare l'appartamento dal la fanno traspirare quindi non c'è un flusso univoco oppure non c'è l'assenza di flusso cioè io non mi sono incapsulato messo l'edificio mio in una campana e basta io ho dato la possibilità di trattenere il calore il più possibile per evitare che le condizioni microclimatiche avverse siano presenti soltanto dentro assolutamente quindi le soluzioni esistono i materiali e i mezzi e la scienza esiste l'innovamento tecnologico esiste pure basta fare la scelta giusta per il fabbricato giusto o anche per il fabbricato progettato male fare la scelta giusta e trovare la soluzione non dico giusta ma adattabile il più adattabile possibile anche qui il discorso è sempre della scelta dei professionisti e tanti si stanno improvvisando perché ovviamente alla ricerca di un lavoro come ci scrivono anche alcuni messaggi uno tenta anche questa strada il professionista essendo professionista conosce la sua professione e conosce i materiali da utilizzare per avvalorare la sua professione ecco quindi questo è importante che altro tipo di consiglio si può dare posso dire che ogni progetto è fine a se stesso è diverso dall'altro in quanto noi dovremo trovare l'equilibrio di intervento per costi e benefici perché questo è importante mediamente un fabbricato che su cui si fa l'intervento deve avere la possibilità di essere come dire compensato nelle sue spese massimo per 10 anni dopo 10 anni mi deve diventare un fabbricato solamente produttivo di cui non ho più costi di cui io solo guadagno ecco questa è la tematica di base su cui muoverci cioè benefici di risparmio e di benessere e costi che non siano esaltanti perché altrimenti non si fa niente assolutamente cercando anche di rispondere a una domanda che era stata posta da un terespettatore ma se uno non ha la disponibilità economica in mano può ottenere dei finanziamenti beh diciamo noi abbiamo ci sono le banche abbiamo diversi istituti di credito che proprio su questi specifici progetti ci credono perché diciamo in particolar modo per le aziende oggi si sta spingendo molto sul risparmio energetico anche delle aziende perché l'azienda diventa più virtuosa spendendo meno diventa più competitiva e di conseguenza le permette di avere un miglior prodotto a minor costo quindi ci sono istituti di credito che in questo credono esistono no no noi abbiamo la maggior parte degli interventi che si fanno vanno con finanziamento di banche questa è già una cosa importante direi che non possiamo dire che le banche danno i soldi così valutano il progetto valutano il ritorno economico che ha questo soggetto e alla fine il 99% danno il finanziamento perfetto mi rifaccio un attimino al discorso del signor Benatello perché per dire per fare una precisazione le banche fanno un discorso anche professionale perché si affidano a quanto detto a quanto scritto a quanto progettato dal professionista perché loro nella valutazione hanno i loro esperti pertanto un qualcosa realizzato a regola d'arte ha più vantaggi di essere accettato di non un qualcosa progettato alla carlona come per carità ho usato una parola un pochettino troppo pesante spesso ci sono anche c'è qualcuno che fa il copia e incolla prende un fabbricato io ho fatto il primo intervento lo adatta o meglio lo fa tale quale sull'altro no come diceva il signor Benetello ogni realtà ha una sua identità e una sua unicità certo quindi attenzione anche alla specificità la collocazione l'esposizione dell'edificio forse questo è un altro aspetto che a volte si trascura che però diventa determinante più che mai quindi a riprova ecco il fatto che noi ci poniamo a fare gratuitamente il check up dei fabbricati per valutarne l'intervento se è conveniente o meno perché se un fabbricato da demolire bisogna demolirlo inutile che ci mettiamo a dire ma basta fargli il capotto non è assolutamente vero allora se strutturalmente se ha tutte le caratteristiche per poter essere risanato ecco e punto economico alla mano perché di questo si tratta se questo mi dà ragione allora in base a questo si fa il progetto e si fa la valutazione e anche il finanziamento ma se il fabbricato è abusoletto e non ha motivo per essere ristrutturato ma deve essere demolito bisogna demolirlo assolutamente e come installare un impianto fotovoltaico su un tetto di una abitazione che è ombreggiata da un gratticello infatti risulterebbe molto però effettivamente bisogna avere la consulenza migliore un'altra domanda passare di classe energetica anche come investimento per vendere l'immobile e avere quindi un certo tipo di riscontro è possibile farlo? Possibilissimo se noi andiamo a vedere qualche annuncio di una diciamo le agenzie di comprabendita dei fabbricati vediamo categoria del fabbricato e cominciamo a leggere le varie lettere della categoria del fabbricato è chiaro che se io compro un fabbricato di classe più alta lo pagherò molto di più di quello che è la classe minima ma è un discorso innanzitutto bisogna vedere che età ha il fabbricato ma è un discorso da compratore a venditore io come imprese come aziende agenzie immobiliare ho l'obbligo di dire al compratore che classe energetica ha quel fabbricato che io gli propongo nella vendita assolutamente una verifica di classe energetica è possibile farla lei che parlava prima certo ci mancherebbe altro la verifica di classe energetica va fatta se uno prima di intervenire noi dobbiamo fare il check up con asseverazione di che classe rappresenta perché ci sono anche delle possibilità di agevolazioni diverse messe insieme con altre tipologie cioè se io vado a riqualificare il mio fabbricato ho la possibilità di avere agevolazioni nazionali o anche territoriali a volte regionali ecco pertanto è tutto un comparto da scoprire e da mettere insieme nella sua tipologia migliore ripeto che una volta fatto questo si dà la possibilità all'utente di fare una sua celta sapendo che va a investire e deve essere chiave in mano il discorso non può essere interpretativo o di valutazione in fase di lavori realistico in loco e soggettività ecco deve essere chiave in mano allora i conteggi si fanno sulla carta e poi devono essere rispettati a consegno dell'operazione perfetto allora siamo in chiusura io ringrazio della vostra presenza anche il presidente Benetello rinnoviamo quindi l'appuntamento a partire da lunedì prossimo quindi sino a domenica inclusa quindi un'intera settimana a porte aperte in via Rienza presso la sede dell'Italian Solar la casa easy più con esperti consulenza gratuita insomma poter vedere uno spaccato della propria abitazione a 360 gradi come intervenire come renderla meno dispendiosa e quindi un vero e proprio investimento per la propria vita e dico quindi una migliore qualità dell'abitato ma anche eventualmente come investimento proprio in proiezione di un'eventuale vendita futura quindi un bene che ha un valore in sé per sé questo anche per fare rispondendo ai messaggi che sono arrivati fare una cultura dell'abitare in modo corretto e cercare di elevarsi progressivamente verso l'Europa che sta facendo i paesi europei che stanno facendo ben altro molto più di noi vero Benetello? Purtroppo sì Eccoci qua grazie ancora grazie a voi di averci seguito di aver partecipato noi come sempre ci ritroviamo domani grazie a tutti